come va e bentornati sul mio canale come sempre prima di iniziare il video vi ricordo di iscrivervi qui sotto al mio canale youtube di attivare anche la campanellina così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità proprio come quella di oggi perché c'è una novità da parte dell'inps e allora partiamo da qui con il messaggio numero 1488 del 21 di aprile ovviamente 2023 l'inps ci avvisa di una novità per quanto riguarda la domanda in via sperimentale della naspi nel progetto che si chiama re ingegnerizzazione della naspi e di school ve lo ripeto re re ingegnerizzazione della naspi e di school lasciamo stare sta parola che è veramente ti lega alla lingua con tutti i denti il nuovo servizio di presentazione della domanda consentirà a tutte le persone di fare questo compilare il modulo di domanda della naspi con una esemplificazione anche questa un'altra parola complicata ma adesso vi dico che cosa vuol dire dei dati da inserire ecco e la pre compilazione delle informazioni che riguardano la propria posizione che è già presente eventualmente all'interno degli archivi dell'inps avere una visione più dettagliata dei dati che riguardano uno specifico ambito grazie a una riorganizzazione generale di tutti i quadri della domanda e poi è possibile visualizzare i potenziali punti di interesse durante la compilazione della domanda come la durata e del diritto alla prestazione quindi durata e diritto alla prestazione ma non ci sono solo queste novità ce ne sono anche altre e adesso vediamo intanto ci sono tutti i dati dell'ultimo rapporto di lavoro è già questa una bella una bella un bel aiuto ecco diciamo così poi vengono fatti anche dei controlli automatici in base ai dati che sono già presenti all'interno degli archivi dell'inps come vi ho detto prima come per esempio l'eventuale iscrizione alla gestione artigiani commercianti iscrizione ad albi ordini professionali chi era titolare di partita iva eventuale iscrizione alla gestione separata eccetera eccetera e poi infine è stata aggiunta una nuova schermata degli avvisi hanno proprio scritto così gli avvisi che in base all'esito dei controlli automatici fatti ovviamente dal sito internet dell'inps segnala eventuali problemi sulla domanda quindi in così voi iniziate già a capire se ci sei tutto a posto se in regola oppure ci sono dei problemi se dovete aggiustare qualcosa inserire riprovare rimettere vedere praticamente siete tranquillissimi che il sistema già controlla tutto quanto prima ancora che voi premete invio il nuovo servizio di presentazione della domanda come sempre ovviamente non c'era neanche da chiederselo lo potete trovare sul sito internet dell'inps entrando ovviamente con uno speed la cns o la c e carta di identità elettronica bene con questo è tutto vi ringrazio per avermi guardato ricordatevi di iscrivervi qui sotto al mio canale di youtube di attivare anche la campanellina così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità e come sempre anche qua ricordatevi di seguirmi su instagram con questo è tutto ci vediamo in un prossimo aggiornamento sempre solo sull'unico canale originale di youtube il mio quello che vi fa i conti in tasca a presto ciao